A Savignano è di scena la Belle Epoque, questa sera alle ore 21 il cinema teatro moderno si traveste nel più esclusivo salotto della Parigi di inizio novecento e ospita Io sono Misia, l'ultimo spettacolo di una piccola rassegna che porta sul palco Lucrezia Lante della Rovere, ora nei nostri studi di Radio Icaro Rubicone. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti, complimenti per la vostra iniziativa di ragazzi e di radio. Grazie, io sono Misia. Misia sarebbe venuta sai, avrebbe sostenuto tantissimo questa vostra iniziativa. Infatti anche secondo me, ma chi è Misia? Dunque Misia è stato un personaggio storico che ha realmente vissuto nei primi del novecento, il suo apice è stato nei primi del novecento ed è stata una donna che ha avuto un grande talento, un grande fiuto verso gli artisti di quell'epoca che erano tutti quelli che poi hanno creato l'arte moderna, che erano i ribelli, erano i contestatori del vecchio di tutta quella che era l'arte di fine ottocento e quelli che per noi adesso sono i grandi geni che sono Picasso, che sono Lautrec, Proust, Stravinsky, che poi sono diventati i nostri geni dell'arte moderna. All'epoca erano dei giovani scappestrati, alcolizzati, poeti pazzi, sconosciuti, considerati dei rivoluzionari, anche dei poco di buono, dei sovversivi e quindi c'erano delle persone invece che sostenevano questi artisti, che li sovvenzionavano, li finanziavano, li amavano e Misia era una di queste qui, quindi una donna che andava abbastanza controcorrente, non stava a casa a ricamare, andare a scuola, a sposarsi dei bravi mariti e a fare la signora come si faceva all'epoca. Era una donna che abbracciava e scopriva e fiutava tutto quello che era il nuovo e quindi insomma era una grande personalità con tutti i rischi che tutto questo comportava perché, ripeto, stiamo parlando in un'epoca in cui le donne facevano altro e siamo nei primi del Novecento, siamo a cavallo tra le due guerre, insomma, quindi era stata una donna con una grande personalità. Noi l'abbiamo riscritta, io mi sono innamorata di questo personaggio, l'ho scoperto a Parigi andando al Musée d'Orsay, ho visto una mostra su di lei e ho detto ma sta donna, io non la conosco secondo me va raccontata, mi piaceva, mi disturbava anche un po' che fosse un po' nell'ombra, no? Perché stava dietro le quinte, era rappresentata dagli altri ma di lei non si sapeva molto e insomma, diciamo, forse attraverso la mia curiosità sono andata a cercarla e ho chiesto a un poeta amico che è Vittorio Cielo di scrivermela, in un po' come avete fatto anche voi con la radio, nel senso che poi quando uno vuole fortemente una cosa, no? Ci si unisce tra amici, persone, con Francesco Zecca che è il regista, con il quale ho già fatto degli altri spettacoli, abbiamo detto senti, mettiamoci a lavorare su questo personaggio e proviamo a farlo, anche perché in Italia c'è un po' questa difficoltà che se porti i classici, che porti le cose già conosciute, ti dicono, ah ma è sempre la stessa roba, se porti una cosa nuova o comunque proponi a un produttore una cosa nuova, ti dicono, eh ma questa non la conosce nessuno, allora no, per evitare di entrare in questo, in questo incastro abbiamo detto, noi iniziamo, ci siamo proprio innamorati di Misia, abbiamo detto, iniziamo a lavorarci e poi vediamo che succede e devo dire che Misia però, insomma, le piace, no è andata bene, siamo andati al festival di Spoleto, sì, siamo andati, insomma abbiamo fatto adesso al teatro India, l'anno prossimo saremo in un teatro molto importante a Roma che è il piccolo Eliseo di Parpareschi, insomma, Misia è partorita, la faceva partorire gli artisti, partoriva la vita, era... adesso Lucrezia è l'ante della Rover e partorisce lei, ha partorito Misia, due curiosità, la prima è se ci svela qualche curiosità riguardo alla scenografia di questo spettacolo che è proprio caratterizzato da questa enorme poltrona e qualche pochi elementi, pochissimi, sì, dunque, tanto lo spettacolo è un monologo, cioè la voce narrante di Misia che si racconta e volevamo fare comunque uno spettacolo, cioè c'è un po' questo equivoco in questi anni anche di magra economica in cui monologo, uguale, leggio, Duluci, Cameron, abbiamo detto, Misia era una regina, cioè Misia... Facciamole un trono... Facciamole come minimo un trono e quindi Francesco Zecca che è regista si è inventato, tra alcuni il suo bravissimo scenografo che è Gianluca Amodio, questa poltrona gigantesca di tre metri, tutta di velluto e mi è incastrata con un cappotto della stessa stoffa della poltrona con una parrucca fuori misura, è tutto fuori misura, un po' come lì c'è nel paese delle meraviglie e mi ha messo su questa poltrona in cui all'inizio sembra un quadro, tant'è vero che anche io dirò sembro ferma, sembro come scolpita dentro un'immagine d'epoca, dentro la storia e quindi c'è anche un po' questa ricerca di identità di questa donna che dice ma chi sono io un quadro, cioè che si ricerca anche attraverso l'immagine che gli altri hanno di lei, vedi quindi appunto l'immagine pittorica in cui lei l'hanno anche fissata. Fissata, sì. E come è nato, non ci ha già spiegato come è nato il suo interesse per questo personaggio, ma la mia curiosità è quanto c'è di lei in Misia o quanto c'è di Misia in lei? Sicuramente in un lavoro così si mischiano proprio le due cose. Beh, è bello, comunque portiamo un'anima femminile, un'identità femminile, ovvio che Misia è Misia, Lucrezia è Lucrezia, però è bello mischiare le emozioni di Lucrezia con quelle di Misia che le inventiamo, perché è una scrittura inventata. E quindi è bello inventare attraverso un percorso di una donna che ha fatto certe scelte una mia emotività. E quindi è un personaggio molto emotivo, è un personaggio che si rasconde dietro una maschera, perché è anche mondana e che fa vedere tutta una serie di lati, però poi cerchiamo di raccontare anche tutta una serie di fragilità e di che cosa c'è dietro quella maschera. Dietro quella maschera ovviamente c'è anche Lucrezia, c'è l'attrice, ci sono tante cose mie, ovvio, sì. A Misia Sert pare dobbiamo la scoperta della stilista più celebre di tutti i tempi, Coco Chanel, e le fortune di tantissimi altri geni che peraltro tu hai già nominato. Una donna che aveva fiuto per il talento. E oggi in televisione siamo pieni di talent show. Per cui la mia domanda è chi ha secondo lei oggi talento? Chi ha talento? Ha talento chi ha una sensibilità particolare verso il proprio lavoro, chi ha un quid in più verso una passione, chi non si fa scoraggiare, chi persiste nel tempo. Chi ha talento è un po' una domanda un po' generica perché anche voi avete avuto talento nel mettere su questa radio. Secondo me di tra il talento ci vuole, intanto nasce con una grande passione, poi sicuramente anche con una grande scelta, con una grande tenacia. e soprattutto il talento è anche una questione di una sensibilità, di una cosa in più che uno ha, non saprei come definirlo. Un insieme, un purpurì di piccole caratteristiche. Quale consiglio vuole dare? È anche una necessità, è anche una necessità perché secondo me se hai un talento poi hai bisogno, hai anche proprio una necessità vitale, di esprimerti e di esprimerlo. Non lo fai per compiacere, per piacere, perché fa figo, lo fai perché proprio tu ti realizzi e esisti attraverso quella cosa, perché è il tuo linguaggio, non potresti fare altrimenti. Quale consiglio vuole dare a noi giovani che al giorno d'oggi siamo spesso demoralizzati un po' da questa società che ci circonda? Vi capisco. Vi capisco. Qua ci demoralizziamo tutti perché il periodo è difficile, è molto difficile. E per chi è giovane capisco che sia ancora più difficile perché quando ero giovane io, quando c'avevo l'età vostra, insomma sicuramente c'era un orizzonte più largo in cui si poteva sognare e insomma tutti i problemi che vi state ponendo voi oggi ad esempio io non li ho avuti, non li ho vissuti, quindi mi demoralizzo magari oggi, però ci sta pure come uno magari a 50 anni diceva vabbè, sei un po' più scoglionata. Non è giusto che uno sia demoralizzato da giovane perché bisogna sognare, altrimenti sei già un vecchio, altrimenti ti mangiano gli altri. Quindi bisogna continuare a sognare. Nel senso, faccio l'esempio di Misia. Questo è un paese dove secondo me non si capitalizza. Cioè anche noi grandi adulti che abbiamo perseguito, abbiamo una carriera alle spalle, se uno prova ad appoggiarsi al fatto che uh sono Lucrezia Lante della Rovere, eh ma io devo trovare il produttore che mi finanza, che mi aiuta, eh ma io non ho voglia di ricominciare sempre da capo perché sono giunta a questo scalino della mia carriera, ad esempio. Cioè sei fregata. Perché qua non è così. Allora, un incoraggiamento per voi giovani è dire guarda, Misia è nata veramente con lo stesso spirito di quando avevo vent'anni. Cioè senza soldi, senza che nessuno ci credesse. Io e Francesco ci sono fatti la produzione insieme, da soli. Cioè c'è stata una signora che con la Marina Lia che con una fondazione, con un ragazzo che ha un figlio down che si chiama Bolli, ci ha finanziato questo spettacolo, l'abbiamo trovato per caso. Veramente, ora non so esattamente il litro di questa radio, però è nato un progetto che uno dice non ci posso, cioè ho avuto dei momenti e dico ma no ma io ancora così devo, no ma perché ancora così dobbiamo lavorare, no? Allora, non smettiamo di sognare, quindi non smettete di sognare, è vero che è difficile, però uno deve essere fedele al proprio talento, fedele alla propria passione, al proprio sogno, anche se gli altri provano a romperlo, a spezzartelo, non bisogna mollare. Grazie. Grazie. La ringrazio infinitamente per la disponibilità che ci ha concesso. Buonasera e arrivederci a Lucrezia Lantello. Ciao, e bocca al lupo con la vostra radio. Crepi. Ciao. Grazie mille. Ciao.